Musica Ciao amici di Molise Web TV Oggi, a seguito delle richieste che ho ricevuto vi presento un'altra canzone del complesso musicale Archè questa canzone è stata suonata al Festival della Zampogna di San Polo nell'agosto del 2012 ringraziandovi come al solito della vostra attenzione un caro saluto al vostro Angelo Ma di là dei confini geografici noi nel Molise confiniamo con il Lazio soprattutto con la Ciociaria e abbiamo in fondo gli stessi caratteri almeno per quanto riguarda la Zampogna ci divide soltanto una montagna Gianni Ciociaro e il secondo brano è un suo brano che si chiama A Montechiove un brano Ciociaro A Montechiove 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti